Oggi è una giornata straordinaria, bellissima la nostra maggiolata, piena di sole e piena di gente. Siamo davvero orgogliosi di presentare di nuovo i nostri meravigliosi carri. E poi abbiamo annunciato oggi anche l'evento CRU di settembre, che è il Festival dei Borghi Più Belli d'Italia, perché l'8, il 9 e il 10 di settembre Lusciniano sarà Teatro Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia. Saranno presenti tutti e circa 350 Borghi Più Belli d'Italia a Lusciniano. Quindi poi sveleremo il programma e vi racconteremo però davvero un evento unico che rappresenta i Borghi e l'Italia autentica. Vedere questo colpo d'occhio, questa gente così numerosa, ma soprattutto partecipe e empatica con l'iniziativa è davvero una grande soddisfazione. Ovviamente sono qui anche per testimoniare l'impegno del mondo economico, che comunque è corollario e a margine di quella che è poi l'impegno dei volontari, della Proloco e di tutti quelli che permettono la realizzazione di questo evento. Ovviamente però partecipa in modo significativo e sarà la Camera di Commercio a fianco anche per questo evento legato ai Borghi Più Belli d'Italia, che appunto si celebreranno nei prossimi mesi. Lusciniano è sempre bella, ma con la Maggiolata è ancora più bella. Una bellissima occasione anche per tanti turisti che oltre a vedere le bellezze di Lusciniano possono apprezzare anche la bravura di questi quattro rioni che sanno fare veramente cose incredibili. Quest'anno i carri sono veramente molto molto belli, dovessi giudicare io non saprei veramente a chi assegnare la vittoria.